la rassegna stampa è stata offerta da i sapori del vallo l'arte di fare la pasta www.isaporidelvallo.it Buongiorno e bentrovati alla rassegna stampa di 1TV andiamo a guardare insieme le principali notizie di oggi partiamo dal mattino no in vantaggio Brexit si allontana questa è l'apertura del mattino in realtà è notizia di pochissime ore fa la BBC ha ufficializzato avrebbe vinto il fronte del live quindi l'Inghilterra ha votato per l'uscita dall'Europa ma andiamo avanti con la nostra rassegna stampa e andiamo a guardare gli articoli di Spalla la padula al Milan che beffa De Laurentiis vuole immobile ma non spendo 11 milioni e ancora il caso Fiorello guida il partito di Insigne e centropagina il codice appalti bloccherà l'Italia De Luca contro la nuova normativa regole e oneri allungano i tempi del rio combattiamo le lobby ancora centropagina il caso frammento e reperti restituiti con scuse portano sfortuna Pompei la maledizione degli archeoladri e l'analisi le gare che crollano la prova dell'errore di taglio basso Antonio è caduto non l'ho ucciso io il bimbo precipitato al parco verde la madre respinge le accuse del PM e infine lettera Francesca qui la domenica e galera due volte le parole di Enzo Tortola andiamo avanti in primo piano fisco e lavoro l'agenda dell'Unione Europea riparte da qui Juncker telefona anche ieri ai leader quattro proposte dell'Italia sul tappeto i nodi una banca centrale 17 sistemi diversi di tassazione è uno dei problemi irrisolti Draghi ripete da tempo quanto ancora dovrò aspettare perché i governi dell'Unione decidano e di taglio basso la banca centrale europea riapre le stanze della guerra pronta a una liquidità per 300 miliardi un anno fa analoga mobilitazione per il rischio Brexit e oggi a Basilea atteso vertice delle banche centrali e le interviste del mattino all'ex ministro delle finanze della Grecia deluso da Tsipras lancia un suo movimento l'economista che ha studiato in Inghilterra fa il tifo per la Brexit spero possa prevalere infatti dice sono le istituzioni in bilico non l'Europa le parole di Varoufakis mancano risposte alla crisi e la disgregazione in atto al di là del voto inglese il rigore la risposta è disobbedire a regole che ci stanno uccidendo e far crollare questo impero in primo piano la politica interna il retroscena caos PD madia contro Orfini governo inciampo in senato nove centristi con Verdini e Forza Italia in direzione il segretario rilancia e il personaggio Roma Raggi si insiede e piange sindaca chiamatemi Virginia l'inchiesta banche popolari PM sento Norenzi plus Valencia nel Mirino il premier nessun sentore di speculazioni la Consob movimenti di denaro nel Mirino la Roma preseduta all'epoca da Di Benedetti e passiamo all'economia codice appalti scintille tra De Luca e Del Rio il governatore progetti esecutivi costosi enti bloccati il ministro no incidono solo per il 3% ancora economia pensione anticipo anche per i pubblici lo hanno annunciato il ministro lo ha annunciato il ministro al tavolo con i sindacati contratti madia convoca le sigle e l'energia rinnovabili 9 miliardi con il piano del governo passiamo alla prima pagina del mattino di Salerno scandalo ruggi indagini intrecciate questa è l'apertura dal primario al portantino gli amici miei dell'inchiesta fannulloni divisi in gruppi per timbrare cartellini mazzette a ginecologia e assente isti c'è un medico coinvolto in entrambi i filoni l'articolo di spalla De Luca Mattatore nella prima giunta comune esordio bis per Napoli proposte su eventi e partecipate gli articoli di fondo la giustizia caso masturse archiviazione per il presidente e il commercio svolta movida più vicini ai palazzi storici la fotonotizia in centropagina fonderie l'avvertenza diventa nazionale il ministero convoca azienda e sindacati rimaniamo su centropagina in auto con la compagna gli sparano e caccia all'ex shock nel centro di Agropoli 35enne ferito alle spalle e al torace poco prima era stata incendiata la vettura della fidanzata si segue la pista passionale la frode impiegato infedele buste paga gonfiate con bonifici truffa e di taglio basso baia degli infreschi basta scempi stop alle concessioni quindi sanità l'inchiesta caso massursi pm nessuna prova contro De Luca firmata la richiesta di archiviazione non ci furono contatti tra il governatore e il marito del giudice passiamo ad Agropoli gli sparano in auto caccia al rivale geloso affiancato da una vettura e ferito a pistolettate alla spalla e al torace a bordo due uomini uno e l'ex della donna noto commerciante colpito mentre viaggiava con la sua compagna sala consiglina preso ladro sacrilego spariti i tesori rubati arrestato un 49enne porto via sculture linee e un prezioso incensiere capaccio pestum scontro fratir muore autista di gromola terribile incidente sulla A1 e il decesso all'ospedale di Parma pertosa omicidio panzella l'indizio nei veicoli e di taglio basso corletto monforte bandiera a mezzasta per annunziata il rosario esplosione in casa e funerali di due delle tre vittime queste erano le pagine del mattino proseguiamo con la città università sospetti di parentopoli inchiesta sugli esami di anatomia con legami tra prof e studenti questa è l'apertura di taglio alto spara al compagno della sua ex agguato ad agropoli gravissimo commerciante di capaccio e caccia all'uomo e sempre di taglio alto muore dopo un incidente tamponamento fatale spostiamoci sul centro pagina battipaglia eboli sfida zizzona mammellona quindi la mozzarella e sfida tra la zizzona di battipaglia e la mammellona di eboli scoppia la rivalità per uno dei prodotti più conosciuti del made in italy i numeri e le storie del derby della piana del sele gli articoli di fondo nel mirino anche il codice degli appalti quindi De Luca attacca del rio sulla riforma dei porti e l'inchiesta ecco perché da anni nessuno fa niente il degrado delle ex carceri errori soldi dirottati e incuria gli articoli di spalla le fornelle raccontate dai suoi ragazzi e Salerno letteratura il faccia a faccia tra Todi Servillo e Tullio pericoli centropagina camorra maxi sequestro beni bloccati per oltre un milione ad un gioielliere questa è la prima pagina della città andiamo a guardare le pagine interne politica quindi sinistra PD basta fiducia al buio speranza a Renzi sconfitta durissima ora serve la svolta il ministro Madia chiede la testa di Orfini Roma la Raggi si insedia in Campidoglio presenterà la squadra il 7 luglio e dedicherà un assessorato alla riorganizzazione delle partecipate andiamo avanti l'economia porti De Luca attacca del Rio il presidente la riforma serve altro duro scontro sugli apparti il tuo codice non è Vangelo dice De Luca e per quanto riguarda il referendum costituzionale Confindustria dice sì presto un comitato a Salerno Università una nuova inchiesta medicina riflettori puntati sugli esami di anatomia la procura ha acquisito gli statini elettronici dell'anno accademico 2015-2016 alcuni studenti avrebbero superato la prova perché parenti di docenti e assistenti passiamo al Cilento Vallodiliano e Alburni rete killer nel golfo di Policastro scatta sequestro dei guardi a costa calati in mare 30 km di spadare dal largo di Palinuro fino ai confini con la Calabria salvati pesci spada tonni delfini tartarughe balenottere caccia aperta ai pirati della pesca Bambinelli rubati scoperto il ladro quindi sala consiglina nei guai un 49enne napoletano accusato dei colpi nella chiesa di San Pietro Postiglione si ribalta il furgone operaio di Polla in gravi condizioni e infine Castelnuovo Cilento saliconeta pericolosa c'è l'ordinanza queste le pagine della città passiamo alle cronache si vende Salerno energia apre così le cronache nella prima giunta l'assessore al bilancio De Luca annuncia un piano di razionalizzazione e novità si lavora ad una new ad una new call la maggioranza resterebbe alla holding del comune il 20% va alla società torinese IREN che si occupa della lucida artista centro pagina Ponte Cagnano beni del clan Pecoraro Renna in mano al gioielliero 81enne Ettore Rossomando sempre centro pagina Agropoli impazzisce di gelosia spara al compagno dell'ex moglie e Salerno socialisti calano le preferenze in dubbio i due ultimi eletti esami di avvocato bocciati in 600 agli iscritti il 20% ha copiato di Taglio Basso San Marzano disinfestazione donna rischia di morire il marito denuncia Battipaglia Cardiello Junior Assessore arriva il no della francese la sentenza violentò dodicenne dei picentini condannato a 4 anni e infine Pompei la cartiera si è mangiata il commercio locale questa è la prima pagina in primo piano Fonderie Pisano c'è la relazione ora si attende il magistrato il ministero convoca tutti il 30 per la delocalizzazione ieri sono stati ascoltati i residenti di Fratte Pellezzano e della Valle dal comandante del noi Giuseppe Ambrosone acquisiti nuovi elementi e intanto socialisti con il fiato sospeso traballano gli ultimi due eletti ancora in primo piano miste nelle mani di De Luca Junior spunta Liren per l'energia l'assessore presenta il piano di razionalizzazione e introduce novità e possibilità di accordi la società torinese che si occupa della lucida artista potrebbe essere interessata all'holding di Salerno Energia e poi esami avvocato e catombe percentuale bassa sugli 800 ammessi alla prova scritta annullati gli elaborati per copia conforme il 20% una curiosità tra gli ammessi alla prova orale anche il consigliere comunale Dante Santoro e infine Sala Consilina furto sacrilego di una statua e un incensiere obbligo di dimora per un pregiudicato Montesano Bilanci arriva alla diffida ma il sindaco non ci sta Agropoli tenta di uccidere il rivale in amore lo affianca e poi gli spara nell'auto Capaccio Pestum caso Ristorante Nettuno l'opposizione vuole che il sindaco riferisca in consiglio alla minoranza non sono bastate le spiegazioni giunte attraverso una nota comunale e di taglio basso Vallo di Diano trasporti gratuiti per gli studenti vietati nel Vallo di Diano e il Codacons scrive a De Luca l'impossibilità è collegata direttamente al sistema dei trasporti e al rapporto con il consorzio unico Campania queste le pagine di Le Crona che con cui si chiude la prima parte della nostra rassegna stampa diamo la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità bentornati in studio proseguiamo con la seconda parte della nostra rassegna stampa andando a sfogliare le pagine di Metropolis Sigilli al tesoro degli infedeli provvedimento eseguito nei confronti di tre dipendenti scorta ai dirigenti decisa dalla prefettura questa è l'apertura di taglio alto Salernitana Simone Inzachi detta la sua linea ritiro a Sarnano e Cava questore sindaco scacciano i violenti centropagina il caso codice appalti di Luca Gela il ministro si sta inguaiando la nostra Italia e ancora centropagina Salerno marce alte per la giunta subito piano regolatore partecipate ed eventi l'esordio la proclamazione degli eletti non è ancora avvenuta ma Enzo Napoli ha fretta di mettere in moto la sua nuova macchina amministrativa ieri si è tenuta la prima riunione della giunta che ha discusso del piano regolatore e rimaniamo su Salerno lo scandalo mazzette caso Ruggi nuove prove acquisiti documenti nelle cliniche private e ancora atti del RIS in procura morte alle fornelle esami sui cellulari Salerno accoltellato per la borsa scaccia il rapinatore e ferito alla gamba e il caso Fonderie Caos Pisano tutti a Roma giovedì al ministero per la delocalizzazione Agropoli di follia d'amore spari ad un uomo Ponte Cagnano un milione sotto chiave e battipaglia e già bagarre per l'esecutivo questa la prima pagina in primo piano quindi la regione De Luca Caosico il codice degli appalti sta inguaiando l'Italia il governatore contro il commissariamento del porto in tre anni a fronte di 150 milioni di fondi europei ne sono stati investiti solo 1,8 poi la polemica a distanza con il ministro del Rio che dice le parole del presidente Enzo De Luca mi lasciano stupito la replica i suoi atti non sono certo pagine del Bangelo andiamo avanti accorpamento dei porti Salerno non molla la presa e dichiara guerra a Napoli contro il decreto del governo si sono già scagliati comune imprenditori e associazioni vogliamo autonomia e il dossier di lega ambiente i comuni green non esistono in provincia di Napoli Baronissi e Tortorella ai primi posti della classifica di lega ambiente differenziata anno zero solo 50 comuni ricicloni oltre 500 città sotto il 65% quindi tra i comuni sopra i 10.000 abitanti al primo posto c'è Baronissi sotto i 10.000 abitanti Tortorella ma vediamo al secondo posto Sassano al settimo Pertosa e al ventiquattresimo posto Auletta per quanto riguarda i comuni del Vallo di Viano questa quindi è la classifica lega ambiente stila la graduatoria dei comuni ricicloni 2016 che rispettano l'obiettivo di legge del 65% di differenziata con cittadini che hanno prodotto meno di 75 kg di difiuti indifferenziati secchi la politica a Salerno De Luca Junior detta subito la linea prima della giunta summit con Napoli e De Maio per il piano regolatore poi gli atti per partecipate ed eventi e passiamo ad Agropoli Far West proiettile sangue il rivale in amore gli spara Ebole avevano addosso oggetti preziosi un denunciato Polla veicolo si ribalta grave operaio di 47 anni Capaccio camionista muore in autostrada sala consiglina furto in chiesa ladro acciuffato a Secondigliano e infine forestali fondi per gli stipendi dalla BCC di Aquara queste le pagine di Metropolis andiamo a guardare la prima pagina della nuova ricatto sessuale per lavorare se vuoi lavorare devi è un segreto tra di noi le indagini scattate dopo la denuncia della donna potenza 49 anni a processo per le molestie sul posto di lavoro ai danni di una dipendente centropagina per quanto riguarda il restyling di piazza Vittorio Veneto proprio ora che dovremmo aprire i nostri scrigni quindi si vuole chiudere e nascondere in compiuta Matera Ferrandina e 5 Stelle vanno in pressing sul governo centropagina ora un segretario che si occupi di politiche basta schemi di sopravvivenza nel PD gli assessori esterni devono lasciare Polese chiede di fare in fretta congresso subito e niente calcoli Melfi monta la polemica sull'ospedale sale parto inaugurate e già non utilizzabili anche qui un articolo sulla Brexit attesa anche alla Fiat Chrysler stata per ripercussioni sulle vendite veleni PD speranza con queste elezioni morto il partito della nazione e barata la nuova giunta a laurea il sindaco tiene per sé i lavori pubblici il suo vice sarà la cugina di Pittella Rio Nero ecco la squadra di Toro il neo primo cittadino affida due deleghe ad altrettanti assessori donna e infine lo sport Lega Pro continua la telenovela Matera Uteri e di nuovo Gelo automobilismo postiglione di scena sul circuito di Le Castel Triathlon il materano Lufrano sbanca la concorrenza e vince a Bari e infine Fuzzal femminile gioia per la ionica Bergamotta convocata nell'Under 17 questa era la prima pagina di La Nuova con cui si chiude la nostra rassegna stampa vi ringrazio di essere stati con noi e vi auguro buona giornata la nostra rassegna stampa e vi auguro buona giornata